Network marketing cosa non ti serve? Sentite che bella questa citazione di Kiyosaki. Un business di network marketing di successo non è un capolavoro fatto a mano, realizzato da un paio di mani abili. È una sinfonia di semplicità eseguita da centinaia di migliaia di mani. Come trattare gli altri e farseli amici. Questo è tutto ciò che ti serve ed è la parte più impegnativa. Ora vediamo insieme, sempre seguendo il libro di Robert Kiyosaki, il business del ventunesimo secolo, cosa proprio non è necessario nel multi-level marketing. Grazie a tutti.